Si rischia la paralisi. Napoli potrebbe a breve ripiombare nell'incubo emergenza rifiuti. I conferimenti negli stir di Giuliano e Tufino sono contingentati e lo spettro della crisi sembra essere sempre più vicino. Ieri l'amministratore della Sapna, la società della città metropolitana addetta allo smaltimento dei rifiuti, Gabriele Gargano, ha scritto alla città metropolitana avvertendo che gli impianti non sono più in grado di accogliere l'intera produzione giornaliera e ha lanciato un SOS chiedendo agli amministratori di organizzare siti di stoccaggio in maniera da evitare ulteriori accumuli negli impianti che già sono pieni. Se non ci saranno rapidissime risposte, i cassonetti potrebbero restare pieni. Dopo gli incendi dei tritovagliatori di Battipaglia, Casalduni e Santa Maria Capoavetere, nessun amministratore è più disposto a rischiare continuando a imbottire di spazzatura capannoni e piazzali. A Giuliano sono depositate 26.500 tonnellate di immondizia tra frazione umida, secca e indifferenziato. A Tufino invece ce ne sono 21.500, tante, troppe. In totale tutti e sette stir campani ci sono circa 133.000 tonnellate che nessuno sa come far sparire. Il recente incendio allo stir di Santa Maria Capoavetere è stata l'ultima spinta verso una probabile emergenza. E adesso i dirigenti Sapna temono che il dramma possa ripetersi anche nei loro impianti e lo mettono nero su bianco. Nonostante le tante difficoltà, dal governo regionale trapela un cauto ottimismo. È evidente che ci sono interessi criminali a mantenere in campagna una situazione di precarietà eterna nella gestione del ciclo dei rifiuti, ha detto ieri il governatore De Luca. C'è chi si mette in tasca decine di milioni di euro. C'è anche un interesse da parte di chi deve smaltire rifiuti speciali. Parlo soprattutto di piccole fabbriche nero che non vogliono pagare per smaltire in maniera giusta, ma trovano conveniente pagare qualcuno per appiccare i rughi, ha concluso il governatore.